Buonasera, buonasera, buonasera Max vola a caccia dell'Inter Milan, domani il futuro di Stefano mentre l'ennesimo epigono arriva di Ocdu Buonasera, buonasera a tutti gli amici di Youtube So che vorreste parlare tutti della Bubo TV Vorreste un'idea, non lo so Io non l'ho vista, però Non faccia il pavido, non faccia il pavido Ma sai che guardo le partite di calcio Ho rivalutato, devo venire incontro a te per una volta Perché sto iniziando a rivalutare Eusebio Di Francesco Devo dire la verità Benvenuto, benvenuto sul carro Forse vorrei, ti parlo anch'io È il mas grande, è il football Eusebio, ma Oh, non voglio nessuno Cioè chi c'era dall'inizio su sto canale Basta, basta, basta Tra poco la sigla che facciamo Ce stanno manco quelli che ha messo la sigla No ma ti dico di più Là c'è gente che ce sta più Lo stiamo ritornando perché Avendo la scritta a gennaio L'ho attualizzata No no, davvero, davvero L'ho finita di attualizzare proprio Adesso Ma metti personaggi neutri Metti qualcuno che ancora deve venire Sì, bravo, bravo In realtà c'è una persona che c'è sempre stata qua dentro Lo sapete, è un massimo Quasi uno degli Tocca far vedere un pezzo per dimostrare Ecco, vogliamo le prove Tangibili Un pezzettino, è proprio Comunque il processo è troppo più bello dei post partita Bisogna essere onesti Cioè No Devo dare a te Dare a te Basta Cioè Cioè La Mappi Group esiste La Mappi Group esiste Ok? Ok, ok Ci siamo Che non si dica Probabilmente La più grande inviata italiana E sicuramente la migliore in Calabria Eleonora Cristiani Ciao Ciao ragazzi Andrea io pensavo di trovare solo te oggi Invece niente Eh, ti è andata male C'è pure Ciccione Quel problema È così No, non lo so Lo dicono tutti Ciao, guarda Lo dicono spesso Perché? Perché siete calabresi? Ma il cazzo mi calcola ragazzi? No Perché ho visto No, bobo tv Cose No, no Ho visto un allungo Ah, ok Tentata bene Tentata bene No, sono contenta Io ci sono sempre stata timidamente Ma ci sono sempre Ma tra l'altro È bello vederti Perché noi Cioè La vediamo su YouTube Sul nostro YouTube Però non Mai in diretta da noi Mi sono trovata bene La tifosia Rio Fiorentina È bella tosta Ci sono stata soltanto un'altra volta E devo dire Non era andata proprio benissimo Perché era sempre un Fiorentina Juve In Coppa Italia Che era finita in pareggio Che però la Juve ha pareggiato Tipo al 93 Sempre qua Quindi voi siete usciti incazzatissimi Ci sta Ci sta E quindi Siete sempre belli Belli forci Quindi io un po' di paura Ce lo sento Eh dai Siamo dei teneroni A me Flavio Non lo chiedi Non lo chiedi Io ho saputo Dai guardo Romeno Che tu eri a Firenze Perché non me l'hai detto Ma perché dato Sono entrato Col Pullman Che ci ha buttato Tipo carro di Nel settore ospiti Ah Quindi hai fatto bene Non dirci Non c'è Non c'è Non è impossibile Vederci Lo faccio vedere Quanto pare Non dovrebbe essere Non dovrebbe essere L'han tolto Il Pullman L'han tolto Anche la porta Non c'è Non c'è nulla Tre punti però Fondamentali Con un posto specifico Importante Partita brutta Ceva freddo Anato No non faceva freddo C'era vento Lì in alto A parte che Serebbero un paio Di binoccoli Per vedere la partita Ahia Ahia Questa era la visuale Anato Sì quella Era la visuale Del gol Mi detti Allo stadio Possiamo dirlo Ragazzi Anato Il nostro Al nostro Stadio Le due curve Fanno pietà E compassione Ragione Però ci sono stati San Siro Ragazzi Ancora peggio San Siro Dal terza Nello Non so che guardano Chi ci va Ma no Secondo me Che io ho visto Quelli più grandi Prova a parlare Prova a parlare Un secondo Prova 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 Juve Merda Merda Juve Juve Merda Ok Oggi te la concedo Spottività Ma si ragazzi Fa centrare Il L'armi Dopo Un sabato Sera Di quelli Proprio Da pruriti Intimi Diciamolo così Non ho portato bene Alla viola Dobbiamo sapere Di più Di questi Pruriti Intimi Però Caro Milanologo Mi dispiace Che Lei non sostenga La Juve Perché Forse Non ha chiara La situazione No no Io ho ben chiaro La situazione Ovvero Che la Juventus Ha fatto 8 Clean sheet Su 11 Con il suo Miglior giocatore In campo Che è lo Slavo Kulovic Che appena Avrà Un problema D'infortunio La Juve Per fidati Che scenderà Perché Non si può Giocare A calcio Ma chi se ne frega Ma chi se ne frega Ma allora Dobbiamo dare la seconda stella Quelli Che vuol dire Ma chi se ne frega Ma che vinca la più forma Pensavo i problemi C'è il Milan Ma chi se ne frega Se vince la Juve L'Inter Fanno pena entrambi Dal mio punto di vista Io voglio guardare Il mio articello Il mio orto In questo momento È marcio È marcio Il mio orto Va bene No chiaro Chiaro Manca Manca Spiace Spiace Che mandi al macero Una alleanza Rosso-bianco-nera Ma per chi Ma mandi al macero Il anologo Mi dispiace Manca Il capolista Ragazzi Scusate Faccio entrare Il primo In classifica Il Monarca Nero-azzurro Benvenuti Monartici assoluti Il numero uno Il primo in classifica Primi e dominatorio Se devi dire In una partita Eccolo qua Come la flexa In una partita Che hanno anche provato A rubarci Addirittura Il gol è totalmente regolare Fallo di Luckman Ma comunque Siamo più forti Anche dell'arbitro E quindi Vinciamo L'ennesima partita Spocchio Monarcho Tra due settimane C'è la partita Tra due settimane Voleranno Gli schiaffoni A Torino No Proprio Pam 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 Non basta riceverli Non basta riceverli Stia attento Non basta Di una roba Sulla Juve La Juve Con il Milan Ragazzi E l'ha vinta Contro di noi E l'ha vinta Io Anche un po' Di scaramanzia Ce la mettere I ragazzi Perché C'è anche Quello che non va Flavio Non si può sentire così male Un microfono Dai No ma magari Non ce l'hai attivato Miscione Ha segnato il pronostico Come quello che ha fatto Dove l'Atalanta Batteva l'Inter No ma non è solo il Monarcha Ma è anche il Milan Lei si smuta Quando deve parlare Se no c'è un lieve rientro Allora Classifica A oggi Questa è la classifica Inter e Juve In vetta Milan Napoli E Atalanta Lottano per il quarto posto Vi segnalo Che il Frosinone È a meno uno Dalla Così Giusto per Posso Posso prima che parliamo Di calcio Chiedervi un parere Visto che è andata in onda Cioè a Sciscione Dice che è andata in onda La Bobo TV Sulla Bobo TV Sono avvelenato Eh no apposta Perché mi hai detto Che era avvelenato Volevo chiedere Cazzato Perché Vieri Si dovrebbe vergognare Di aver indossato La maglia della Lazio E di essere così ignorante Da non capire Che c'è differenza Tra romani e romanisti Ah beh Questa è una cosa abbastanza assolare E lui Ignorante Era in campo Ignorante rimasto nella vita Perché se Quei Gabomen Li chiamava romanisti Era fatto bene Chiamarli continuamente Roma Romani Come se rappresentassero Roma La romanità Dai 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 Quindi 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 Secondo la testa di un laziale È stato un programma perfetto Tranne Quelli che sono stati chiamati Romani No Quello è l'errore Quello è l'errore Principale Quello è l'errore Mischiale Si sa che si sente bene Sacro e profano È un errore più fondamentale Poi Sull'andamento della trasmissione Ognuno ha le sue opinioni Dove essere sincera A me è sembrata un po' piatta Non è che mi ha fatto La Abbastanza Senza Dania Cassano Non esiste Troppo Troppo Poi stavano tutti d'accordo Non c'era uno che era In disaccordo con l'altro Tutti che si facevano I conflitti Io mi sto solo Grazie al nostro bot Che ha avuto tanti commenti negativi E Un po' mi dispiace Io ero in live Nella stessa ora Ho dato uno sguardo Però ho fatto grandi numeri Eh beh grazie Arcanio Eh vabbè Cioè era difficile Eh ne è detto Oggi c'era la curiosità Dei capi chi c'era Io sono d'accordo con te Però C'avevo una media Di 12.000 13.000 Senza Dania Cassano Magari ha vinto L'effetto curiosità Ma non sono numeri scatti Beh dipende pure dagli ospiti Però Flavio Flavio Se i numeri fossero sinonimo Di qualità Eh certi programmi Spazzatura Sarebbero Smettiamo di dire Che i numeri sono qualità Basta È un modo tossico Di vivere internet Zio cane Mamma mia Vabbè Vabbè Abbiamo un sacco di temi ragazzi Iniziamo dall'ultimo Da Juve Fiorentina Da Fiorentina Juve No Possiamo dire che Bobo Però guarda Ocv No Oppure chi lavora Per lui Secondo me c'ha un film Ma io credo che Insomma Io Io non lascerei mai Un programma Tutto Sulla Sulla testa di Bobo Secondo me c'ha qualcuno Che lo consiglia Ma hai visto che Cassano Ha detto Alla stessa notizia Che Colpa o di uno O di cinque Ah sì Non so se Non so cosa Volesse alludere Non si sa che cosa Vuole dire Però evidentemente Che c'è un'altra Persona in mezzo Se no cinque Vabbè Comunque Comunque Tornando agli spext Ma non per il numero Di spettatori Giusto per Diciamo Parlarne con voi Che anche voi Comunque lavorate Su internet E anche con la chat Secondo me Col fatto che È una roba Che ha coinvolto Più media Cioè a me Sta roba della Bobo TV Me l'ha detta anche mia madre Che è una che Cioè di calcio Di solito Non me ne parla Quindi è uscita Dalla bolla calcio Secondo me Pensavo facesse Ci fosse Molta più Curiosità Cioè stasera C'è andata Le Iene Il servizio Di striscia La notizia La stessa ora Cioè una serie Di robe Che pensavo La pushavano Ancora di più Vabbè Che adesso La tv Non è che conta Così tanto Però striscia Comunque Penso che I suoi Spettatori Li farà Fa 3 milioni Di media Andre Sì adesso Li voglio Io ti dico Quella roba lì Boh Voi lo vedete Striscia Raga No Andre Io non lo vedo Striscia Però io sono molto Che io anche in chat Boh Mi interessa Che mi studio Tutto Fa 3 milioni Di video Sì ma io L'auditel è proprio Il metodo Con cui loro Lo fanno Che secondo me Non è affidabile È un campione Però ti dicono Tu guardi la tv Sì però Se te dicessi Quanto costa Io guardo solo Coliandro Il grande frate Eh Bello Un giorno Ci entrerai Flavio Te lo prometto Vabbè Comunque Rispetto a Manfredi Guardi Il d'ingrede Fratello Però a me Secondo A me come scelta Invece Mi è piacere È come si dice È una scelta Coraggiosa Che ha fatto Vieri Secondo me È il primo A farla Vediamo gli altri Come la fa Che l'ha fatto Che coraggio Se l'hanno lasciato Col culo per terra Che coraggio Soffè Obbligato L'hanno lasciato loro Però comunque A quanto hanno dichiarato Su questa roba qua A me mi hanno detto Amici in comune con Adani Che in pratica Loro Non hanno mai avuto un euro Cioè tutti gli accordi Di sponsorizzazione Vabbè Non ci dissociavamo Non lo so Non lo so Mi sembra Dicevano che non Non lo facevano A scopo di guadagno No no Cazzano Manfred Cassano In live L'ha sempre detto Molte volte Scherzando Molte volte Dicendo tu guadagni L'ispo Ma io Lo diceva scherzando Cioè L'ho trovata Nella Nello scherzo Ma nello scherzo C'è sempre un fondo Di verità Boh Vediamo Comunque Staremo a vedere Quelle robe lì Sono più loro Diciamo Io volevo parlare Del programma In sé Comunque Su programma Andre possiamo dire Una roba Che dobbiamo ringraziare La Bobo TV Che ha portato Tanta gente Su Twitch Eh sì Secondo me Tra l'altro Hai gente Che non è su Twitch Quella lì Bravo E secondo me Augu non gira Quella gente Di Twitch È stato il primo canale Di calcio Di Twitch Giusto Non lo so Se è stato il primo Io credo L'interesse Io credo Se loro ci sono dati Questa trasmissione O di si installano Subito L'applicazione Augu Però è partita La Bobo TV In un momento Ho capito A me non mi ha dato niente Ma la questione Augusto è che L'interesse Viene creato Da un opinione Anche secondo me Non è stato male Comunque il programma In quel programma L'opinione divisiva Ce l'avevano Cassano e Adano Ok Perché se tu guardi Invece le opinioni Di Pieri e Ventola Erano abbastanza Comune Quindi tolto Il bastian contrario Che è Cassano E Adani Perdi l'interesse Quindi la Bobo TV Andrà sempre a scemare Come pubblico adesso Senza Cassano E Adani Però vi dico Io me la sono vista Secondo me Non è stata Cioè io Di solito Non la guardo Ok Perché a me Sinceramente Mi annoia Il calcio Così serio Invece stasera L'ho vista Con interesse E vi dico la verità Secondo me Non è male Ok C'è la E comunque Sperimentare qualcosa Andrei Onestamente Io sono abbastanza onesto Secondo me E non perché Ocv E la Bobo TV Sul format Twitch Calcio Web Sono due grandi scuole E la Bobo TV Ha avvicinato Tanta gente a Twitch E ha dato anche Un nuovo format Di trasmissione E Ocv Ha fatto la stessa cosa Su un altro punto di vista Per me sono state Due trasmissioni E sono due trasmissioni Guida Sul Twitch La cosa che però Può fare No 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 con altri creators a quel punto si può innescare che ne so un parterre visto di ex giocatori amici sembra a me hanno dato l'idea di non intercettare persone scomode io ho avuto questa impressione ma questo è il primo secondo me io dico questo per me loro vavano tornare tutti tutti zero zero però anche pancio io credo che i primi i primi no le primi riunioni tra tra tutti tanti tifosi di diverse squadre magari inizialmente vai a capire vai a caratterizzare una volta l'interesse l'interesse non lo crea il format perché il format l'ho aumentato biscardi 50 anni fa ovvero di parlare di calcio giusti l'interesse lo crea un ex giocatore che può raccontare aneddoti che noi o un giornalista sportivo non può non d'accordo non sono d'accordo e lì che crei l'interesse perché all'inizio perché era vista la popo tv perché vi eri cassano e adani raccontavano quello che succedeva negli allenamenti nello spogliatoio che è un qualcosa che nessun altro programma ti può dare se tu togli adani e cassano e togli anche vento le resta solo vieri poi vuoi chiamare tutti però monarca secondo me così secondo me c'è tanti possono raccontare degli aneddoti secondo me loro c'è cassano fa ridere a dirli adani ci mette passione erano anche degli come a fare intrattenimento monarca ti faccio due ma non è che non li dicono e che magari non ti arrivano perché sono degli interventi sterili raccontati male e loro sono bravi a farlo allora ci sono anche altre trasmissioni sul anche su su da zona sul web in cui parlano ex calciatori non hanno quella risonanza io al popo tv ragazzi me le sono sempre viste tutte le live indifferita naturalmente era interessante seguiti poi magari dicevi non sono d'accordo però ti ti prendeva ti aiutava a riflettere e tanta gente che segue twitch che è andata su twitch l'ha fatto inizialmente grazie al popo tv ragazzi perché cassano adani e vieri come comunicatori hanno attratto tanta gente e le clip che si andavano a creare che poi giravano su youtube su tiktok eccetera hanno avvicinato tanta gente a twitch su questo sono stati bravi perché creavano il dissing che forse era questo manca però creeranno nuovi format c'è creato proprio un nuovo format completamente diverso quindi è proprio senza cassano adani è tutta un'altra storia ma io non le ho mai viste però vedevo dire di quelli è pesante per chi c'era oggi c'è oggi ma ragazzi uno può essere non essere d'accordo ma dani ti spiegava i movimenti in campo e gli schemi è una cosa che non fa nessuno dei calciatori perché non hanno preparazione c'è dania il patentino dell'allenatore e il suo miglior amico è de zerbi e un altro dei suoi miglior amici è il secondo allenatore di guardiola e mancini e dentro quel tipo di conoscenza calcistica che in italia non ci hanno più di di rosa che quello monarica è più di nicchia piaceva più la cacciara come dicevi tu perché all'inizio la cacciara non c'era colpo all'inizio la cacciara non c'era inizialmente vabbè però non andiamo sui nostalgici del covid della bobo tv che ora è una roba che avete visto abbiamo visto cioè torniamo io era per dire stasera se vi era piaciuto secondo me è un bel esperimento è un bel esperimento non so milanologo perché ero in live milanologo lei non l'ha visto ha detto un'altra roba e augusto lo sa pure credo far arrivare i personaggi famosi su twitch non è facile loro ragazzi la settimana prima della finale di champions league hanno avuto guardiola su twitch è stato un messaggio di comunicazione importante cioè anche i ricalciatori anche chi è in attività può andare su twitch a parlare non solo alla gazzetta al corriere perché c'è ancora l'idea che il calciatore parla solo alle grandissime testate portare le persone in live una diretta su twitch loro sono stati bravi a rompere ma lì ti manca un passaggio flavio sai perché guardiola va da loro perché sa che a differenza di qualunque altra trasmissione tv non riceverà domande scomode la stessa cosa mancini perché sono amici cioè è quello il problema io vado oltre se io chiedo alla fiorentina di far venire nico gonzalez da mail live mi dice di no perché non però può fare l'intervista al tirreno che leggono in tre sono d'accordo rispetto per il tirreno vabbè comunque di nico gonzalez a proposito di nico gonzalez io io tornerei sulla nostra serie a so che manca poco alla gott league quindi però parliamo della serie a per ora tra l'altro tra l'altro scissione domani parleremo abbiamo perso un altro giocatore per infortunio gott che tra l'altro strano che non riceve lo stesso trattamento da certi giornali però facciamo restituire no no che io dico che tanti si interessano attorno alla bobo tv che comunque ha dei numeri importanti che però anche alla gott league abbiamo visto e non voglio chiamare la stessa attenzione da parte dei giornali gradirei la stessa attenzione grazie domani ti diamo un bacio al terreno grazie mille allora allora ti aspetta di rompe le palle vi faccio rivedere perché un po' di cose sono successi durante fiorentina juve vi faccio intanto ripetere le statistiche che tanto grazie salotto le conoscete tutti e le avete viste parto da flavio favio ragazzi io non l'ho ancora superato io l'ho sofferto ti succede due tre volte all'anno come fai non essere abituato la juve tra l'altro si può perdere ovunque la la juve più forte della fiorentina e su questo lo sa anche mia madre che si occupa di taglio e cuci e fa altro nella vita una vittoria però perdere ragazzi io ero allo stadio la juve ieri non faceva catenaccia e contropiede ieri faceva solo catenaccia ieri la juve lanciava la palla e non nemmeno se l'andava a prendere a me ha fatto impressione vedere la juve così poi ne abbiamo dei giocatori che purtroppo i ragazzi ieri ci ha mancato la giocata il colpo eccetera 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 sì questo comunque scusi ma basta dai ma toglila questo ma perché scusi eh direttore di passione viola e pingata sopra c'ha stato ma io qua lavoravo per l'inte e ho capito ma va dimentica e ho capito ma lì l'avete a prendere mica l'ho pesa io ho capito ma ce l'hai sopra sull'account instagram è ovvio no non sopra è la penultima foto io ho capito archiviala dai un po di rispetto tutti insieme archiviala ma sia ma che poi flavio ma io non sento un accento particolarmente toscano io sono tifoso della ferentina ormai vivo a firenze ma sono pugliesi no vi dico ieri ho beccato un ragazzino fuori insomma dallo stadio dal franchi arrabbiatissimo con questa cosa diceva noi siamo una delle poche squadre che c'ha una vera patria dietro no come questi giuventini che sono siciliani calabresi eh toscani di altri posti che non hanno un'identità mi fanno scrivere una scusa ma perché un siciliano non potrebbe tifare fiorentina no vabbè si può dire i fiorentini sono molto orgogliosi però i tifosi della fiorentina stimati sono un milione e mezzo firenze fa 300 mila abitanti quindi la maggior parte è un discorso è un discorso vabbè saranno fiorentini nel mondo comunque dai io non conosco uno che non è di firenze che ti fa la fiorentina ma io conosciuti perché siete infatti lavorate su internet e che siete delle mosche bianche secondo me mosche bianche sarebbe stato arrabbiato pure con te che sei comunque sarebbe stato sarebbe stato arrabbiato anche ti avrebbe disdegnato va beh questo partiamo partiamo dal campo perché poi su successi si è parlato anche molto di quello che è successo sugli spalti partiamo dal campo non so flavio sei che chiaramente voglio sentire tutti io non so anche se di un ora se l'è vista proprio dallo stadio dentro ma ce l'hai vista da fuori tu ed è si sono andata dopo io non entro sempre negli stadi perché sono arrivata praticamente tardi anche il mio treno fatto anche tardi meno non sono entrata l'ho vista praticamente metà a casa e metà fuori ma c'è il duro lavoro questo è anche questo il calcio allora 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 spero c'è stato è chiaramente vuole sentire tutti parto da colpo chi ha iniziato a criticare un po italiano sul fatto abbonatevi e paghiamo il biglietto per la prossima partita e leonora dai su facciamo pagatevi il biglietto ragazzi pagatevi il biglietto portatevi allo stadio no io dicevo secondo me ma io in italiano gli do forse la colpa di non aver come si può dire a un certo punto ho capito che doveva proprio rischiarla al massimo cioè nel senso proprio giocare all'arma bianca un po come ha fatto murigno visto che la juventus non si schiodava poi chiaro che però ci sono dei limiti di alcuni giocatori che secondo me sono insurmontabili perché i due attaccanti della fiorentina sono ignobili e sostanzialmente non ne fanno mezzo non è un problema che c'era già dall'anno scorso quindi secondo me senza attaccante tosta faggolini è perfetta ma rimanga l'attaccante no non è perfetta però è una buona squadra che ha pure buone idee di gioco a volte un po troppo estremiste però senza l'attaccante centrale forte alla juventus che si difende così è difficile fare gol e devi trovare l'invenzione ecco forse io l'uomo che avrei messo un po prima magari con e qualche dribbling lo fa però poi alla fine abbiamo visto non fatto manco è stato emblematico che ha messo mina negli ultimi minuti perché beltrano ci dove che si è fatto male io e non avevamo altri c'è italiano ieri ha messo certo punto ha messo dentro il nome ha messo dentro sottil c'era anzolà c'era nicoli ha messi dentro tutto possiamo dire che il gioco di italiano fa cagare cioè alla fine è sterile possiamo dire io ho trovato tutto quanto la molle di dominio territoriale di possesso ma che quando sono stati mai pericolosi questi quanto esatto improduttivi l'unica occasione pericolosa la punizione di birachi anche nico se ti entra quel pallone di nico centrale scesne deve cambiare lavoro no 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 non c'è nico lì mi deve tirano ecco perché non ce l'ho così ragazzi nel secondo tempo tu hai segnato con l'uventus un tiro che finiva fuori dalla porta col milan ha segnato continuo che finiva fuori dalla porta e poi c'era nella casualità c'è stata a volte l'episodio diversi è stata brava io direi anche un pizzico fortunata che c'è il milanologo che si è smutato mi sono smutato soltanto perché io credo che ieri la flintina il grosso problema sia stato il centro avanti perché se avesse avuto un centro avanti degno di questo nome probabilmente qualcosina in più si poteva fare italiano nel secondo tempo ci ha provato a cambiare la partita perché a un certo punto toglie arthur e mette i con e quindi prova a cambiare anche modulo tenendo comunque gli esterni offensivi ha provato a mettere gerry in mina a caso perché non ha più punte provando le palle alte purtroppo l'aumento si era fatto una fase difensiva perfetta la flintina forse per a tentare di entrare con degli 1 2 fuori area visto che con i cross non ne prendevano uno perché erano di più in area ed erano anche più grossi è un peccato perché secondo me quantomeno un pareggio lo poteva strappare ma la juventus è stata brava in fase difensiva e chi vince ha sempre ragione raga ma questa juve non ricegni mai ma che volete al povero italiano è anche vero ragazzi se se una squadra si difende in a non è la propria metà campo in area di rigore con 11 persone forti tra l'altro non delle squadrette non fai un tiro da fuori alla naigolan che la mette all'ingroso ma noi questi giocatori non ce li abbiamo ragazzi nico c'ha queste giocate ma l'hanno bloccato sì ma non è che non è valido giocare così è fravio è valido lo puoi fare anche tu andre è il discorso quale loro sono stati bravi non fortunati bravi e noi ciucci a fare quel gol dopo sei minuti quindi nozze sono andate volevo rispondere anche al minanologo allora è chiaro che il centravanti della fiorentina non è adeguato il treno non è neanche un centravanti in zola lo è ma ha caratteristiche di progressione non è una punta d'area la tattica più sbagliata è quella che ha fatto la fiorentina cioè cross in aria per uno che non è bravo di testa quindi obiettano doveva fare tutt'altro gioco la fiorentina cioè muovere la palla molto velocemente e quindi mettere mandragora non ha avuto alcun senso avrebbe dovuto giocare il doppio play maximo pezza accanto art per aumentare la velocità di possesso palla e di cambio di gioco e allora metti in difficoltà la juventus perché poi devi muoverti per quando tu non dici cose sbagliate però il miglior barcellona di sempre c'è mio analogo su una ruota contro l'inter del 2010 che si è messa al campone in aria messi e i migliori del mondo non gli hanno c'è non hanno vinto la partita non hanno passato il turno per anche 10 l'inter quando io non posso dire nell'area ragazzi e direi posso dire una cosa a flavio alla prima l'interno rimane in dieci prima cosa è seconda cosa ragione pensori di quelli inter si chiamavano sawell lucio zanetti come centrocampista a recuperare palla avevi cambiasso avevi kivu sui ieri giocavi contro gatti e rugani la più giocavi flavio se tu giochi contro gatti e rugani se tu fai girare la palla velocemente e piuttosto di mettere cross a caso magari provi le giocate uno due ha fatto contro messi c'è pure un senso magari magari cambia capito e flavio atto contro l'unica cosa doppiamo e c'è stiamo andando verso il disinnamoramento di italiano secondo me su quello stiamo posso dire una cosa al monarca il giovane può sbagliare ma come italiano è un fenomeno come allenatore volevo rispondere una cosa al monarca e volevo di disciacquati la bocca quando parli di massimiliano allegri innanzitutto e di rugani ok sei clean sheet sei clean sheet sei clean sheet guardate le statistiche oggi ho visto una statistica ragazzi quando c'è rugani la juve non perde mai rugani rugani l'uomo da portare in nazionale ma vai a fanculo per risponderti pancio lui ogni anno deve prendersi una merda come idolo rugani nazionale guardate le statistiche guarda le statistiche ora ragazzi potete mandare al bot le statistiche di rugani ma rugani c'ha 30 anni oggi ho visto oggi ho visto un thread così ragazzi praticamente di tutte le volte che quando c'è rugani in campo la juve vince anto tu che sei giuventino perché 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 sono tutte le scuole più scarse immobile non vale sta cosa ci sono sui rigori che deve giocare mi farebbe panchina alla feralti salò questo è perché prende 4 milioni a stagione voi non gli perdonate che prende 4 milioni a stagione avete questo baglias cognitivo e allora non ho fatto mai giocarsi quando c'era le catombe proprio se non giocava alexander basta va bene va bene va bene va bene ha fatto figure di palta anche a cagliari quando l'alziamo con la nazionale no che l'alza rugani poi guarda pancio e perché c'è gente come rugani che in italia non si qualifica i mondiali lo vogliamo capire a mia parola perché non ci sono più già gli attaccanti forti fa cagare ragazzi fa cagare ma pensa cosa devo sentire l'unica cosa di buono che c'è il procuratore allora premere ugali non è un grande giocatore non è stata una riserva non è sempre stato però le sue prestazioni le ha sempre fatto come l'uomo più esperto che c'è adesso la juve dopo c'è no daniel no da tempo alla juve colpo tu hai visto giocare nella juve chiellini barzagli cannavaro ma non potete paragonare a quelli di oggi c'è paragonare a quelli di oggi ruggani a oggi è maggiore di bonucci punto ma buona riserva ancio ad oggi meglio ciao meglio ruggani guarda ci stavo pensando prima su calabria ti dico tutta la vita anche se è un ruolo ma smettila con questa cosa che devono avere lo stesso ruolo per essere paragonati basta la de filippi fa i cantanti e ballerini io non posso fare un terzino e un braccio di sinistra ma che cazzo di ragione ti fa allora allora quando fai cantati e ballerini va a far ballerino il cantante no 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 si sfida anche allora lezione per chi non segue amici succede solo nel serale nella fase finale nel pomeridiano sono ballerini contro ballerini e cantanti contro vabbè però nel serale c'è quella cosa lì e comunque allora e comunque a oggi ruggani maggiore facciamolo bene a oggi facciamolo bene difesa a tre ruggani di chi è meglio delle squadre delle big che gioca c'è atalanta non sono scalvini gym city toloi con la sinac secondo te meglio ruggani a oggi si bastoni acerbi librai no marugani e quello biondo che gioca nella juve bastoni no se vuoi fare lo stesso ruolo è vabbè che poi adattato lui perché non è che potrebbe giurare al posto delle a va bene va bene va bene parliamo per quanto mi riguarda potete continuare a sfotterlo se la juve continua così sti cazzi non ma noi stiamo a sfottermi caro cani che non è soggiorata ma come siete esagerati siete esagerati perché rimane è una merda è una merda colpo gioca paprika la lazio ruggani se te lo prendi gioca al posto di parte che prende un milione d'euro ma infatti ma infatti adesso rinnoverà ripasso parte guarda che bravo guarda che gran genitore mamma mia questo questo è uno che non ti tradisce mai questo è uno che non ti tradisce ma comunque voglio vedere se e vorrei vedere pure se tradisce la porta rispetto allora allora ecco qua ecco qua cronaca l'avevo vista allora questo lo score della juventus con the wall rugani in campo dal primo minuto nelle ultime due stagioni sarei capito io ti sto guardando ti sto dicendo io max oggi dice rugani e da otto anni alla juventus all'esperienza di un veterano il suo intervento mi ricordato barzagli lui ieri fa una cosa fa una cosa ragazzi su pancio 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 io mi sono dovuto sorbire 45 minuti a san siro di jovic ma veramente stiamo parlando con un calciatore ma veramente siamo seri uno scherzo intanto e trollando perché a me già sembrava un troll vedere uno il capo titolare del mina la faccia il tramanti sabato parlare di lugani lugano cioè veramente minuti la tiscina chiudiamo la parentesi vulani ragazzi prima di andare sul milan rimaniamo su quello che scordi c'era quella di strevezza però rimaniamo su quello che poi almeno strevezza era un giocatore discreto rimaniamo su quello che è successo un po sugli spalti con blavic corri razzisti sharp del liverpool è successo un disastro no 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 bravo facciamo ordine facciamo ordine e contrappello via vai vai facciamo ordine allora prima di tutto io oggi ho postato su passione fiorentina che gli imbezzi stagano bandiera sia su su twitter il mio profilo personale instagram passione fiorentina tic toc passione fiorentina agli imbecilli non hanno bandiera c'è un imbecillo un imbecille non rappresenta una una tifoseria c'è un tifoso della juve che ha fatto una pilata che l'ultimo video sopra 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 all'ultimo video a destra a destra l'altro post è un imbecille l'imbecille non ha bandiera come l'imbecille che mostra la sciaffa del liverpool non ha non è la tifosi della fiorentina su blavic ragazzi blavic ieri è vero che qualcuno gli ha fatto il coro razzista è vero ma è anche vero che lui ha fatto di tutto per provocare chiesa non ha subito nulla anto quando lui è entrato nello stadio dove è andato è andato al centro del campo da solo la gente lo fischiava lui si è messo al centro la cosa sbagliata di pezzo di merda di figlio il coro razzista è giustificabile io ti dico questo però però il calciatore non deve provocare abbiamo un video esclusivo questa fine partita ce lo guardiamo perché non l'ha non l'ha messo ancora nessuno questo vabbè vediamolo prima di vantartene lui qui dà la maglia ad una tifosi della fiorentina chiedi ad uno della fiorentina la vuoi darti con la fiorentina dice no vabbè però la verità è che ai fiorentina il culo non avere più blavic hanno trovato un'alternativa giusta è per questo che fanno così poi gli imbecilli sono ovunque però è per questo non è che lui che provoca dopo quando esce dal campo alza il dito verso l'acqua vabbè ma perché gliene dicono di tutti i colori però Flavio perdonami Flavio scusate io frequento io sul coro razzista ragazzi il coro razzista si è censurabile e chi fa il coro razzista è un imbecille ma ti gira il cazzo comunque però io di Guamplauvic chiesa ragazzi non l'ha provocato nessuno Milano l'ha muto ah no no c'è la Milano l'ha prego prego Milano l'ho Flavio scusami io frequento l'Artemio Franchi e Fiorentina Juve dal 1992 e ahimè nello stadio di Firenze in quella partita di imbecilli sono circa l'85% con tutto no 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 Flavio diciamo io vengo a Fiorentina Juve ogni stagione soltanto perché mi diverto a vedere tutto quello che succede sulle tribune più che quello del campo che mi interessa sempre relativamente ieri quando è finita la partita ovviamente perché il risultato era stato sfavorevole a Fiorentina ci sono stati tanti in maratona a insultare Blauvic con gli epitepi razzisti non erano cori erano insulti razzisti possiamo capire di cosa stiamo parlando poi ovviamente Blauvic poteva metterci del suo far finta di niente e andare via invece poi lui ha diciamo ancora fomentato il fuoco ma diciamo che è una partita particolare lo sappiamo a Firenze quanto vale Fiorentina Juve e ahimè in quella partita in quello stadio gli imbecilli purtroppo sono troppi a parer mio con tutto il rispetto per la tifosieria fiorentina che è molto simpaticico ragazzi l'imbecille non abbandi l'imbecille è imbecille posso dire la mia scusa però lui può evitare lui entra allo stadio ieri entra allo stadio prima della partita quindi quando si fa quando i giocatori vanno sul terreno del gioco io ero tra i pochi ero lo stadio credo ci fosse anche Antonello perché i tifosi c'erano già c'erano quando è entrato lui sai dove è andato? la gente lui è entrata sai dove è andato lui? al centro del campo da solo e guardava tutti e rideva però chissà quanto gli rompono le palle Flavio cioè tu immagini una unica deve passare prego monarca al volo io per seguire il discorso del milanologo e allargarlo io credo che la realtà sia un'altra ovvero che gli imbecilli come li chiama Flavio siano la maggioranza e meglio stadio perché lo stadio è da sempre una zona franca dove si può ottenere un comportamento animalesco e nessuno dice niente questo da che esiste il calcio io la vedo così no no secondo me sono d'accordo in parte con il monarca secondo me questa cosa grazie a Dio sta cambiando siamo secondo me la generazione cioè siamo la prima generazione che diciamo va allo stadio inteso come da grandi e piccolini che sta entrando in questa fase culturale grazie a Dio ne vedo sempre meno se voi ti dico la mia esperienza diretta una volta effettivamente era quello che ho parlato ho parlato con alcuni tifosi non dirò di quale squadra ultra e loro mi dicevano guarda io ti racconto noi ci ritroviamo la mattina alle 10 prendiamo è presente le tanniche che riempi di benzina quelle le riempiamo di alcol ci alcolizziamo col pullman andiamo in trasferta noi arriviamo già ubriachi della partita non ci interessa assolutamente nulla quello che ci interessa è fare casino e bordello ragazzi però qua stiamo dando un messaggio veramente sbagliato non sono d'accordo per niente gli imbecilli ci sono perché coinvolge tantissime persone purtroppo tante persone sono imbecilli ma perché coinvolge tante persone però è lo stadio anche lei va allo stadio tutti noi andiamo allo stadio e penso che non tutti siamo degli imbecilli è ovvio che ti lasci andare di più rispetto al solito non è ovvio per niente non è ovvio per niente perché guarda che gli insulti che vengono fatti che non mi faccia così leggero non mi faccia così se tu li fai in una stanza se tu li fai in una stanza prendi le querele ok invece allo stadio che uno subriamo se consone ti lascia andare di più nel senso che i sulti che fai che ti sbagli ma come puoi uscire fuori e ti è perci e tu devi regarci un pochino in Italia non guardiamo mai ma non sono solo animali ma non sono solo animali dove non esistono le classi sociali dove veramente tu ti abbracci anche con la persona che in realtà per strada non abbracceresti né moe né mai semplicemente perché state esultando per la stessa per la stessa cosa ed è vero che solo lì succede e dobbiamo mandare un esempio che è proprio sbagliato no ti chiedo questo sai qual è la cosa che più unisce gli esseri umani avere un nemico comune allo stadio oltre ad abbracciarti col tuo compagno di tifo la cosa che fai più spesso è denigrare l'avversario perché questo è però io non sto d'accordo su niente quello che dice il monarca noi stiamo facendo un processo all'Italia ma io vi invito a vedere no 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 io al mondo lo faccio Augusto allora non hai capito niente io ti invito a vedere cosa succede in Francia cosa succede in Olanda cosa succede in Italia ma allora ma scusa Augusto ma ragazzi ma non è soltanto violenta ma perché non freglie hai tirato fuori sta cosa scusa vogliamo fare una cosa di tutto il calcio in tutto il mondo non del sudamerica ragazzi ma io penso che come succede là è di tutto il mondo non delbiamo la gravità delle cose in Olanda hanno sospeso tre partite da inizio anno in Francia hanno fatto quello che hanno fatto al pullman in sudamerica ogni tanto si spara ho detto insieme al mondo non solo in Italia ma perché ho capito ma secondo me in Italia succede meno che rispetto a tutto il mondo ma in generale è perché coinvolge tante persone non perché le persone che vanno allo stadio io ti dico che io oh grazie e soprattutto se uno va allo stadio ragazzi si imbriaca ma sono cazzi suoi ma come quando vai in discoteca se non fai mai ma certo certo ma quello vale nella vita in generale però affanculo scusate ma lei me lo dovete far dire ma raccidi me lo ricordo solo io ma è successo vent'anni fa eh ho capito ma il problema è che si fa il problema è quello di oggi sono d'accordo con te c'è l'idea che lo stadio il posto dove io faccio un esempio la stessa persona che insulta Lukaku se le incontri il giorno dopo in Duomo non lo fa non lo fa no non è vero questo però ragazzi non è cretino è cretino no questo non è vero no perché bravi nella committiva nella cosa ma comunque non fa quello ma è comunque un credito lo stesso Blavich Blavich le stesse persone beh c'è l'effetto branco e l'effettivamente comunque in uno stadio è innegabile c'è l'effetto branco ma ok c'è l'effetto branco magari non lo so ho fatto precisamente ma farà un'altra cagata certo ci si nel bene nel male nel bene nel male capito cioè comunque questi sono persone imbecilli non è che lo stadio istiga violenza non è così perché se no allora i bambini non ci dobbiamo andare noi donne da sole non ci dobbiamo andare e tutte quelle cagate lì no andiamo tutti allo stadio e ci divertiamo ecco Milano che è tornato per cambiare no siccome ogni volta mi pianto lì da un momento all'altro perché mi pianta la batteria allora ho cerchiato di girare il mio cellulare ho staccato la batteria speriamo che non sparisco da un momento all'altro o per fortuna sparisco ma freddy che fa oh no guardiamo guardiamo instagram alla stadia dai blauvi vedete il canale non ho rinciato moderatori erano anche degli altri blauvi ce e rabbio sono venuti a ballare a firenze non li ha rotti il cazzo nessuno anzi probabilmente ci sono caricati qualcuna questo legge giugno però per dire vero vero che quella della macchina dobbiamo cambiare pagina se pagina nera purtroppo milanologo psg per alcuni un video cosa mi sono perso mi sento malissimo scusate abbiamo detto milanologo che la partita contro il paris aspetta fallo uscire rientrare perché secondo me è fatto apposta portate rispetto al mio fratello questo non commento penso che sia premeditato comunque comunque domani pioli un altro che state come rugani veramente cioè pioli e rugani del milan fondamentalmente no rugani è meglio ma prima di pioli ma chi avevate manfre gian paolo gian paolo io so che dovrebbe andare ad allenare i vinciati chi c'era prima di gian paolo chi c'era gattuso gattuso no no perché voi parlate di più pioli secondo me c'è il minima prima di gattuso montella montella prima di montella c'era pippo in zaghi ma c'è torf no prima di montella c'era brocchi che ha sostituito sinisa di ailovic no io volevo dire che pioli quando ne parlate ricordatevi che pioli a differenza degli altri che sono ex calciatori che hanno carisma ma sicuramente non hanno una preparazione come stefano pioli che è un allenatore attenzione è un allenatore uno che schiera crunici in continuazione è un allenatore uno che fa giocare gli ovvi c'è un allenatore ma stiamo scherzando oh ma pioli posso dirti una cosa fa tanto è passata la mezzanotte ma pioli ma bello che rotti i coglioni e io non ce lo faccio più e io sono mesi che porta eh sì a me ha rotti i coglioni io pago per andare allo stadio a me non mi invitano allo stadio io pago sono cliente e in questo momento non sono contento del servizio della cedina perché quello che c'è in panchina in questo momento non lo seguono più e lo dicevamo dallo scorso anno bisognava ringraziarlo per il bel tre anni e mezzo in cui ci ha dato uno scudetto fortunato sfortunato quello che vuoi ma ce l'ha dato si ringrazia se i cicli finiscono è finito per Sacchi è finito per Capello è finito per Ancelotti da un ciclo molto più vincenti di allenatori molto più preparati e competenti di Stefano Pioli si ringraziava e si mandava via come avevano pensato altri che adesso non ci sono più invece noi l'abbiamo tenuto ce l'abbiamo su groppone e ovviamente non sono tutte colpe di Stefano Pioli ma adesso lui si becca tutta la melma che la società gli fa prendere perché lui è lì a fare il parafulmine di questa società e quindi benissimo 4 minuti e mezzo per fare il parafulmine stai lì se no prendi ti rimetti e ci fai anche un favore grazie non si rimette tanto dicono che non è cioè è un ex calciatore Pioli no si si però giustamente non è di a livello alto eh bravo no no bravo Manfred no lo dicevo agli stigati in chat non è uno che ha fatto la nazionale no parlavamo di Inzaghi Gattuso però Manfred ha giocato nella Juve nella Fiorentina si però ha vinto una Champions ha vinto un mondiale un buon allenatore non eccellente ma un buon allenatore nella media di quelli italiani secondo me non è malaccio soffre un po' in questo momento di maniera di protagonismo perché secondo me sta a fa un po' di errori perché si sente un po' unto dal signore però io vedo nel Milan un'idea tattica ce la vedo si si la vedo anch'io palla Leao e palla lunga Giroud e che Dio ce la mandi buona e questa roba qua se c'è il coraggio di criticare Allegri è la stessa identica roba sono figli dello stesso calcio in questo momento a me non sembra a me non sembra a me non sembra proprio poi poi secondo me le colpe non è cosa mamma mia quanto mi manca Bartolillo 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 ma chi è è un nostro storico personale comunque lo vedo bene comunque lo vedo in forma mi sembra che stia bene lui partecipa nel video partecipa nel video nella sigla ha fatto adesso prima di una sigla no colpo colpo perdonami solo una cosa no c'è una sigla io parlo della fase offensiva no no c'è una missale differenza anche se la vuoi considerare uguale che la Juve tende a provare di recuperare palla basso il Milan in questo periodo sbagliando ma tende a recuperare alta che è una differenza sostanziale ma non mi soffermo io ho scoperto l'aggressione sul recuperare palla ragazzi ha vinto è quasi tutto Rebic dai ragazzi no io mi soffermo tanto sulla creazione di situazioni pericolose in questo momento chi ha in questo momento sulle ultime 3-4 partite no tutto quest'anno è così no tutto quest'anno no partecipare hai avuto l'Expluat gli skitch renders love to cheek no non ti parlo no no ma 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 arrivano le azioni Dio Poi prego scusate scusate il Milan piano piano il Milan di Pioli già iniziando dalla metà della stagione scorsa il Milan di Pioli gioca male ragazzi non è più quella squadra fresca frizzante salvo alcuni Espluat o alcuni momenti o qualche come il primo tempo di Napoli dove il Milan gioca assolutamente un ottimo calcio il Milan di Pioli ha avuto un'involuzione tattica e non ha detto una stupidata colpo gobbo perché secondo me anche l'altro giorno dove ha cambiato per l'ennesima volta modulo 4-4-2 ma alla fine il Milan riusciva a creare cosa? solo quando davi palla Leao e Leao speri in Dio che sia unto dal Signore e ultimamente non lo è affatto perché non lo è affatto non è un problema del Milan ma in questo momento non è sicuramente quello che ti parla la differenza perché in questo momento non è in forma e il Milan ovviamente non crea più niente e non fa più niente perché dall'altra parte ovviamente se metti tornante uno che hai preso per fare l'incontrista il nuovo che si ce l'avevo ribattizzato noi gli facciamo fare in tornante adesso perché ci sta dai Musa ottimo tornante infatti ha messo palle e mezzo ovunque dai su con Girou a far da spalla a un ectoplasma che se mi metto io a Milanello mi mettono in forma prima di Jovic domanda però domanda meganologo ma tu pensi che il Pioli abbia in mano una squadra da poter lotta con l'Inter se non è fantascienza rosa la mano se poi lo fa ha fatto il miracolo è il terzo su è il paperino ragazzi scusate ma cos'è io ho un'idea è un'idea che consiglio è che consiglio è di tira se non lo sai è meglio no no il Dineide vi conosce è il vice di più un attimo sulla questione Milan dice che il Milan non crea gioco ma con chi lo deve creare ci vuole la tecnica per creare il gioco il Milan in mezzo al campo ha gente con i piedi quadrati escluso Adli tutti gli altri non sono in grado di creare un'azione dai Reinders sapeva Monarch aspetta secondo me no 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 colpo ascoltami ascoltami Reinders 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 ha fatto una partita col Bologna quando ha affrontato una difesa chiusa l'Inter Reinders è sparito perché è un atto di quei giocatori che non ha nei piedi la giocata punto è chiuso quindi Pioli ha fatto degli errori sicuramente ne farà ancora ma fino a un certo punto non c'è tecnica in mezzo al campo e quindi è impossibile per il Milan creare gioco la palla deve scorrere veloce hanno i piedi quadrati in mezzo al campo scusami 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 dimmi no io ti chiedo se questo Milan con Pioli ok alla fine dell'anno arriva a quarto ed esce da un girone di Champions difficile cioè secondo te ha fatto così male ma guarda dipende che cosa si chiede al Milan cosa si chiede a questa squadra onestamente la società gli chiede di stare nei primi quattro posti quindi è il motivo per cui non viene esonerato in questo momento anzi la partita importante è quella di domani non che abbia perso Codinese ci hanno mandato un video di un ragazzino diciamo un tipo giusto faccia pulita Dio porco Dio porco no no esagerato Dio maiale di un Dio voglia vabbè è tutto così l'hanno mandato al botto l'hanno mandato secondo me sai cosa perdiamo di vista secondo me è una roba possiamo fare tutte le belle analisi tattiche tecniche tutti i difetti che questa squadra ha dei difetti strutturali che si porta dietro anche dallo scorso anno ma il problema vero e grave che ripeto dallo scorso anno che Pioli non ha più la fiducia dei senatori la squadra non lo segue più non c'è gente che si brutta dentro nel fuoco per Stefano Pioli e quindi è una situazione che può soltanto peggiorare non puoi avere migliorie uno mi dice chi metta Abate Ibrahimovic non lo so metticila qualunque perché in questo momento Stefano Pioli non fa presa sul gruppo quindi può avere anche l'idea magnifica l'idea tecnica fantastica ma in questo momento non è seguito dai senatori e i senatori sono quelli che fanno la differenza perché se voi andate a vedere le prestazioni di Magnan di quest'anno di Teo Hernandez di quest'anno di Leao di quest'anno Girù quantomeno si sta impegnando anche se poi i risultati in campo sono pochi e sono quelli che poi nello spogliatoio contano non è gente che si butterebbe nel fuoco per Stefano Pioli anzi è gente che se la cambia l'ottantesimo di Napoli in antimacolo in quel paese ma la società bisogna togli i dati di altri che è il problema è a prescindere perché il problema principale del Milan è la società che è assente che è totalmente piatta un po' sono curioso è chiaro che lui sta là a far parafulmine e siamo d'accordo però onestamente i risultati in questo momento sono sì magari al di sotto sono preoccupanti ma non sono disastrosi perché terzo posto in classifica è in questo momento secondo me una posizione che se arrivi a fine anno ci sta perché comunque non è che si ci sta che arrivi terzo in Champions hai affrontato un girone che oggettivamente non ti ha dato una mano e poi nelle prime due partite la Moemina è stata pure abbastanza sfortunata ora che cosa facciamo buttiamo Bioli per prendere chi ma non sarà chi discorso la Moemina è un po' sì Augusto Augusto scusami un attimo la tua lettura che è vera perché in questo momento il Milan è terzo in classifica è un girone difficile in Champions League però ribaltano un attimo il Milan in questo momento ha meno punti dello scorso anno ok dove lo scorso anno in campionato è arrivato quinto ce lo vogliamo ricordare il Milan è arrivato quinto è andato in Champions League perché la Juventus è stata penalizzata perché ha fatto delle cose una domanda velocissima chi parli di creare gioco il Milan non crea gioco allora noi ti dico che devi cambiare l'allenatore a prescindere poi decidiamo tu cambi l'allenatore diciamo che prendi perché andiamo nel metaverso il Milan domani prende Ancelotti una palla imbucata che crea l'azione da gollo come quella che dà Cialanoclo a Darmian tu c'hai uno che sa dare quella palla nel centrocampo del Milan dimmi questa verità no ma perché questa squadra le differenze e quindi Monarca Monarca ma questa squadra avrà delle qualità ci sono dei giocatori con delle qualità devo sfruttare le qualità di questa squadra ho capito ma contro le difese chiude posso ragazzi ragazzi non fatela diventare una litigata se stai chiuso non c'è tecnica non sfondi questo è la cosa posso dire una cosa al Milan mi fanno pelo contro pelo ad Allegri che gioca con Rabiot Miretti e Locatelli se il Milan ha problemi a centrocampo con Reinders Loftus Cic e altri giocatori a me pare che ci siano più mancanze degli allenatori sia da una parte che dall'altra non segue la verità che Allegri ci aveva Artur e l'ha cacciato questa è la verità il problema è che come e anche che come attaccante ai giro non c'è alternative che va a 40 anni cioè comunque chi fa il gollo non è in Milano ragazzi è molto sopravvalutato c'è lo scudetto che il Milan ha vinto che è stato l'ester italiano gli ha fatti pensare di essere una grande squadra siete una squadra a quarto posto secondo me il Milan è una squadra buona ma niente di eccezionale ragazzi tolto Magna allora li investiscono male allora li investiscono male però sono tanti Agu guarda prima era un Flavio Flavio se tu dici questi qua ha messo gli undici che hanno giocato con l'Udinese non è una squadra poter lottare per lo scudetto allora perdonovi ma la società che investe 100 milioni ma Magna e siamo a questi livelli a parte della squadra c'è qualche altro problema oltre questo c'è una colpa non ha investito 100 milioni ha movimentato 100 milioni che è diverso è una cosa movimentarli è un'altra perché sinceramente io quando penso al centrocampo l'anno scorso che era Krunic Benasser e Tonali e quest'anno per i due attori che lotta con l'Inter ma in che universo non deve lottare con l'Inter questa squadra questa è una squadra che secondo me arriva tranquillamente se fosse ben allenata e quindi e quindi se guardi la classifica sta facendo il suo esatto si ma se continui così tu nelle prime quattro non ti arrivi come è successo lo scorso anno ragazzi quando nell'Inter avevo Guzmano mi veniva dura a metterlo ma manca la tecnica e questa è la verità può giocare anche senza con questi centrocampisti perché il Milan è forse l'unica squadra in Italia che ha tre top player che sono a livello internazionale perché in Bagnano Leao e Nerte Fernandez possono ambire ad altri palcoscenici poi forse anche l'Inter ce li ha guarda che Leao e il Portogallo e il Portogallo e il Portogallo fate finire a Ciccione per favore l'Inter ce n'ha forse qualcuno secondo me non a quel livello però diciamo l'Inter è più completa il problema del Milan secondo me in questo momento è che ha un centravanti di trentasett'anni che non è mai stato un goleador quindi non è uno che ti risolve la stagione o le partite la palla gliela devi portare lui ti fa quello lui è come è come il cartimbal il cartellino quando so 15 col te ne fa 15 forse 16 mai 10 però è quello è tu per fare il salto di qualità devi prendere un grande centravanti perché se prendi uno che come la prende dentro la pese da butta dentro il volto del Milan cambia anche perché tu poi devi cambiare noi l'hanno preso c'è la riserva che non è un giocatore non è un atleta ma da so farò Pioli che pretendete sta facendo male pure secondo me non sta piacere però non è che in giro ci stanno allenatori che vengono e ti rivoltano la squadra io uno ce l'ho in testa in realtà secondo me potrebbe rivoltartela come si chiama Antonio Conte che devi tirare fuori i soldi ma non pida mai a Ele what do you think un altro discorso l'allenatore c'è in giro che ne pensi sul Milan no l'ho detto anche io del centroavanti cioè poi di fa gol no no su questa cosa di colpo gobo di Conte eh ho sentito Conte richiesto Napoli Milan in qualsiasi caso ci dovevano pensare già da quest'anno cioè secondo me ora insomma che ci sia Pioli è un dato di fatto e rimarrà e non avrebbe nemmeno senso farlo andare via dall'anno prossimo devono valutare perché come ha detto il milanologo prima il ciclo di Pioli è finito e quindi dovranno valutare dall'anno prossimo penso ormai però l'anno prossimo devono cambiare un po' tutto secondo me Minalolo con la Pensi che non ha campioni a livello del Milan fra tesi che da noi ma cosa annuisce al Milan sarebbe stato titolare una movibile però ha detto un'altra cosa io ho detto un'altra cosa così la confermi perché lui ha detto che più attenzione 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 ma attenzione notizia bomba la Juve per gennaio per mirare allo scudetto punta il mitico inglese Calvin Phillips mamma mia mamma mia caro Ciccione quest'anno gli spingono la squadra la serie A e l'europeo e anche la liga con l'europeo tutte le ligue tutte le ligue io preferirei io preferirei un summer zicc e allora vedi che è un allenatore che proprio predilige l'antica ma ragazzi ma questo fenomeno ma c'era la caglia che Allegri Arthur lì caccia lui vuole prestare al calcio quindi se il tuo centromiale è colpa dell'allenatore scarso che ti ritrovi posso dire una cosa allora secondo me intanto Allegri sta facendo il suo cavolo di gioco e i risultati ad oggi danno ragione è un risultatissimo aspetta benvenuto un risultatissimo lasciami finire di off perché altrimenti tu strappoli ed esce un'altra roba il punto è un altro lui secondo me quest'anno deve portare la barca in porto che sono i primi quattro posti e poi deve andare via deve arrivare un altro allenatore per cui chi arriva chi non arriva oggi non mi scaldano non mi entusiasmo non succede nulla non mi vedrete vibrare tifferò sempre la mia juve andrà vedere questo è un acquisto enorme colpo copo dai è un campione d'europa dai ma campione d'europa di cosa è strappoli o torino ho capito ma non era sicuramente il protagonista è l'ennesimo corridore coi piedi quadrati c'è la stessa valenza che te posso dire no ragazzi c'è il campo della juve rabbio milan philips locatelli e gioco centrocampo no molto meglio samarzic ha ragione colpo ma va ci manca uno che devi guardare pure in prospegna piccolo colpo tu devi c'era gente che ha vinto ma no questa è una fesseria un fenomeno vabbè o manfredi vogliamo andare anche su la capolista no non lo so parliamo di cazzate tutto il tempo posso dire l'Inter ha una sola rivale per il campionato che è l'Inter stessa questo da tre anni gioco da Inter tutte le partite viene fatta una gestione oculata dei cambi non ce n'è per nessuno nessuna squadra è minimamente paragonabile all'Inter né per titolari né per i soldi io che sono neutrale perché in Serie A non ti fa nessuna squadra devo dire che sono d'accordo con il Monarca e in questa Serie A che sicuramente non stiamo vedendo una grande Serie A non la Serie A migliore insomma che abbiamo visto penso che l'unico che propone un buon gioco è l'Inter no non è l'unico il mio analogo ha abbandonato alla verità io c'è una domanda rispetto a nelle Big Si nelle Big Si io c'è una domanda per quanto riguarda le Big Si non la domanda quella più se intendi Juve e Milan si però l'Atalanta gioca bene no tra le Big tra le Big perché l'Atalanta tra le Big con le 3 Juventus Juventus Inter Milan Lazio Roma mi stavi quasi perché l'anno scorso è infatti l'Atalanta centrocampio Chadderun Ederson ragazzi io voglio io voglio fare una domanda al Monarca se lui prego guarda dico a 6-7 giornate dalla fine si trova primo con 4-5 punti di vantaggio sì sulla Juventus ed è ancora in Champions League magari a giocarsi un quarto di finale tutta sta sicurezza che l'Inter ce l'ha ancora avrebbe ancora guarda io credo che la Juve in quel periodo del campionato sarà circa 10-12 punti hai detto se infatti se fosse a 4-5 punti la sicurezza la mantengo perché l'Inter ha dei campioni di status internazionale porta rispetto porta rispetto la finale della Champions League porta rispetto Lautaro Lautaro Barella ma come Barella dai ma Barella ha vinto un europeo un italiano e gente scusa Monarca Monarca io ti voglio bene Monarca io ti voglio bene e sono d'accordo con te che l'Inter vincerà il campionato quest'anno però non pisciare fuori dal vaso per questi funzioni di status internazionale come l'autopartire Barella c'erano anche gli ultimi due anni dove non hai vinto il campionato ti vedi te ne ho accorto o te lo dobbiamo sfruttare no perché non me ne sono accorto che la Noglu ha vinto uno scuretto l'Inter mi sono accorto che l'ha vinto però tu hai quelli di statura internazionale una cosa di Milano mi rispondo sinceramente Milano Porto Benfica e Milano occhio eh mi rispondo sinceramente lo scudetto che hai vinto tu te l'abbiamo regalato come si getta è sempre così è sempre così come si getta una lotta a un cane ma come ma come l'anno scorso l'Inter non aveva una rosa attrezzata per competere su due fronti e infatti non è competente alla fine non hai fatto niente perché se non incontri Porto Benfica e Milano tu in finale Champions League sai quando la rivedi esattamente come il 2000 è una squadra di merda è una squadra di merda ma infatti ho paragonato Porto e Benfica hai capito ti è andato a bere quello perché altrimenti tu non ci arrivi mai nella vita io so che però mi sono scontrato con una squadra io so che in finale sono andato con una squadra che ha speso un miliardo di euro negli ultimi dieci anni e per ammissione del suo allenatore meritava di vincere l'Inter e hanno avuto culo ok che se non abbiamo Lukaku che fa il portiere se non abbiamo Lukaku che fa il portiere e se loro non fanno corso l'unico tiro che passa a un centimetro dal palo quella finale l'ha vinto io Monarca tu pensa che se non ce l'ha Radu vincevi lo scudetto tutti se 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 ma qui c'è cosa vedo in Milano non lo scudetto in Napoli ti ha anche un scudetto con i tuoi campioni di Stato e che funzionale capito io mi vedo campioni di Stato lì ho perso lo scudetto non ha tornato con Brozio che è stato fuori i tuoi mesi e avevo come sostituto Cagliardini e Vesino ecco comunque io sono arrivato alla conclusione che il Manchester City posso modificare la buttata all'Inter prego posso modificare allora visto che Monarca ha detto che lo scudetto gliel'ha regalato al Milan non c'ha paura che poi lo scudetto stavolta io lo frega ai Ventus perché loro sanno come si fanno certe cose poi a un certo punto e là sarebbe ancora più divertente la situazione molto molto divertente sai perché no perché là non è che lo regalate voi se arrivano questi fanno hop sai perché no perché fessi una volta non due e comunque ma oggi c'era le bette che non ci sono più vabbè ma anche l'anno scorso Monarca al 5 maggio Monarca però posso dirti una roba sono d'accordo con te ma anche l'anno scorso l'Inter è la scuola più forte ma è finita l'anno prima Flavio sono d'accordo con te hai ragione ti faccio delle domande Flavio l'anno scorso a bocce ferme l'Inter parte il campionato chi è il difensore più forte del reparto dell'Inter fammi il nome che è il centrocampista più forte dell'Inter l'anno scorso a bocce ferme per me c'è la no glue per me ma per tutti chi era era chi era il fulcro del gioco ma per gli altri chi era l'attaccante più forte dell'Inter quello che aveva fatto più gol fin lì chi era a Luca tu questi tre però lascia stare quello che pensavano gli altri tu sai che c'è la no glue questi tre non li hai avuto per tutto l'anno perché Scrimiart scusi lei ha nominato i tre di statura internazionale giocavano tutti i tonali Lautaro Ciananoglu e Barella sono giocatori internazionali c'erano però uno è andato in Anabia l'altro stava eppure hai fatto nove sconfitte in campionato ma non puoi vincere le partite da solo ti serve la squadra e quando tu hai il difensore più forte che ti manca il centrocampista più forte che ti manca l'attaccante perno perché io ho dovuto giocare con Dzeko che ha 37 anni e fa schifo come il tuo Giroud che era molto più funzionale di Lukaku per il gioco di Simone Zagli allora Minanologo funzionale va bene ma il campionato si vince con i gol Dzeko ne fa 12 l'anno come Giroud mentre invece Lukaku ne fa 20 l'anno sì ma se Lukaku fa 20 donno ne fa 30 l'Autaro e Dzeko ha fatto fare 30 gol a Lautaro mi pare no? perché se guardi guardati tu sei l'anologo io sono l'interologo quando giocava Dzeko Lautaro era l'unico che andava in pressing eh Lautaro Dzeko non faceva pressing io sto parlando della fase offensiva parlo della fase offensiva quest'anno Lautaro sta segnando molto di più perché il pressing è diviso con Turam cosa che Dzeko non faceva scusi Monarca scusi ma secondo lei perché io mi fido anche di Milano si dice Lautaro Lautaro perché? perché? perché cambia gli accenti? dire da Natalia facciamo così Luca visto che sei convinto Monarca se l'Inter non vince lo scudetto ti togli ti togli cappelli e occhiali no no nessuno ti ha mai visto senza cappelli e occhiali e ora c'è solo una persona di occhibù che sa l'identità e non sono io e chi è? non so se si può dire e comunque non lo dirà mai no no non me l'ha detto manca cioè io mi ha detto io so chi è ma non te lo dirò mai a me vitale vitale ha fatto una rivelazione Manfred in città non ti riconoscono quando esci che monarca ha i capelli lunghi che è solo che ce li ha no no queste comunque questa è una bella idea perché così nessuno ti rompe le palle quando esci fuori non so niente mangiare la tua immagino la tua privacy come Drusilla Poer infatti io vado in giro con una parrucca lunga così ma io ti assicuro che sotto non c'è una donna è sempre un uomo con due coglioni così quindi tranquilli no ma guarda che no ma Drusilla Poer è un uomo comunque vabbè punto però si veste da donna io vabbè vabbè queste allora no però non mi sarei mai permessa monarca ragazzi come direbbe Donali ci avrei scommesso no una cosa un assistabilonologo volevo dare prima cioè monarca si è lamentato delle assenze l'anno in cui il Milan vince lo scudetto se vai a vedere il numero di infortunità e il peso specifico degli infortunati anche monarca cioè il Milan ha avuto tantissime assenze nella di questi tantissimi colpo fai i nomi beh le faccio subito i centrali tipo Dari Teo Magnan se vuoi vado avanti ma sai cosa non è roba mia piangermi addosso perché ovviamente non ti fai internazio e sai se perdo sai cosa dico che la mia squadra fa cagare tu invece c'è uno l'ho regalato e l'uno di l'altro mi pensato alla Champions grazie Ale per la donazione e la frase sul monarca campionato però non spacciarti per la squadra super fotonica che non siete perché alla fine giochi con acerbi hai capito giochi con acerbi in difesa d'armian a me se penso una volta c'è un monarca lui è ordinato una difesa che parlava di Lucio Samuel Zanetti due tante se penso ad armian e penso ad acerbi con tutto il rispetto la squadra super fotonica non la vedo allora caro milanologo acerbi come dici tu ha preso il centravanti più forte del mondo e non gli ha fatto toccare palla che è a land quindi tu un difensore con acerbi te lo so hai capito quindi tu un difensore rodrigo margava invece invece di romana di rodi con acerbi non tocca palla hai capito quando te l'hanno picchiata dimmi ero di romanzia del cazzo con acerbi non ha toccato palla chi vuole augusto cazzo con di 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 l'intero sono gli stessi che quando è arrivata a cerbi dalla lazio se volevano legare scarzo che abbiamo preso portaggio sono gli stessi che hanno dedicato cialano il centro camista più forte della serie perché erano tutti la io vado è stato bellissimo poi seguite la nostra l'onora su youtube qua anche sul suo titolo sul stramato il canale please grazie ma a firenze ti sei trovata bene mi sono trovata bene si seguite il servizio post partita quando esce allora se gianni mi rispondesse anzi facciamo un appello a gianni che pubblica gianni 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 davvero gianni dove cazzo bianco chi è il tuo chi è il tuo editore io non l'ho mai visto gianni però so che esiste è un'entità nostra di Ocb ragazzi comunque ci sarà domani domani lo vedete ora intanto è troppo tardi e state discutendo insomma di cose già abbastanza importanti domani domani grazie grazie ragazzi a presto buonanotte ciao chissà come mai non ce l'hanno vado a letto anch'io ragazzi vado a letto perché mi si è scaricata la batteria e sognerò i fotonici baretta c'erano no certo il Mila vince l'Europa l'Irancia e te lo lasciamo la prossima volta il Mila vince l'Europa l'Irancia sarebbe uno smacco ciao Ale grazie salutiamo il Milanologo sta facendo sta picchiando nel culo è caduto è caduto il Milanologo porca pizzo ma che ride Agisanti ma lei che un po' ridere così ha riso di gusto ha riso di gusto faremo un aller con questa risata di Agisanti sul Milanologo ma c'è una dichiarazione importante e magari che sta bevendo di buono una tisana acqua acqua posso dire che prima no prima ero in balcone ma vi sentivo ho sentito un attacco nei confronti del trasformismo del monarca che non mi è piaciuto che non si deve sentire mai attaccato in questo canale e verrà sempre tutelata la sua identità grazie grazie del contenuto che porta che c'è che l'atteccato eh ho sentito togli di il cappello io ho detto ho detto una roba visto che sei così convinto anche giustamente che l'Inter vince lo scudetto se non dovesse accadere ti togli il cappello di occhiali no però visto che stava così visto che è così eccitato ho messo il cappello che è mutante se vince ma poi comunque il monarca potrebbe interpretare più di un personaggio su cui su cv non dico altro non posso aggiungere altre cose attenzione però perché potrebbe esserci un plot twist vabbè comunque vediamo poi lo capirà comunque no c'è questa dichiarazione importante di charry beh c'è neanche un'altra ma è pesante sulla Lazio sto circolando la voce che a fine anno voglio andare via ho sempre detto che voglio chiudere qui la mia carriera io resto e combatto con i miei presidenti i miei giocatori e il mio popolo pesante si unisce anche Lazio col Feyenoord è decisiva ma l'olimpico è mezzo vuoto no dai no sa richiede il sostegno del popolo bianco celeste ma il caro biglietto deciso dallo Tito frena la prevendita per ora solo 31.000 spettatori ma oltre gli abbonati è di ieri questo no no 31.000 totale perché 20.000 sono gli abbonati sono 20.000 gli abbonati non so pochissimi 31.000 ma 31.000 ma 31.000 più abbonati o 31.000 quanto costa il biglietto credo 45 euro i settori popolari per una partita decisiva gli altri stanno sopra però un settore popolare Manfredi metterlo a 30 secondo me il problema è che la curva nord è tutta diciamo esaurita sapete come lo Tito a fine anno arriva e deve vedere che i conti stanno messi bene non è come altre squadre che possono fare ma sì che me ne fotte scusami tipo i distinti quanto costano minimo 45 euro minimo i distinti credo che stanno intorno ai 45 perché le curva sono esaurite curva nord esaurita quindi sostanzialmente credo ma pure tutta la sud tutta la nord non è tantissimo 40 euro ma si è incastrata male perché c'è il derby quindi tra la scelta tra l'una e l'altra non c'è il derby domanda ma se dovresti devi vincere la partita vinci domani ma non me la chiedi non me la chiedi no 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 te lo chiediamo proprio è semplice lo sapete credo di non sia qualcosa non debba mai corrispondere c'è il derby ho avuto a questa una domanda per il mio fantasma gioca immobile il derby per il titolare secondo me sì addirittura cioè volete fare questo favore alla Roma no perché comunque da quanti anni non vince il derby la Roma scusa no l'ho vinto un anno e mezzo fa il ritorno dell'anno scorso c'è iniziata quella settimana lì dell'anno praticamente cioè oggi è tipo Santa Lucia no per questa tipo per quest'anno potrebbero essere credito le settimane perché Coppa Italia perché Coppa Italia se hai a quarti di finale ci potrebbe essere lo scontro diretto molto probabile anche in Europa League giusto più potete incontrare meno Parigi è difficile comunque prezzi popolari la tribuna costa 80 euro l'Hospitality 550 euro più dello Stadium Juve Inter cazzo ma si incastra proprio male perché comunque c'è il derby e sostanzialmente le persone non è che possono fare scelte e quant'altro tribuna d'onore ospitali di 550 per la partita che lo stadio che è però questo ragazzi se te lo vuoi fare è proprio un lusso che ci sta a questo non compra nessuno tutti invitati si si tramite sponsor come la maggior parte delle cose come andiamo ne allo stadio ragazzi ma questo qua come è 150 all'intero ma guarda che poi si vede pure ma la tevere dopo il posto migliore è la tevere infatti la tevere gold perché se è al centrocampo proprio la tevere Monteveretò Montemario dopo sta più spostato perché al centro ci sta la tevere la tribuna stampa e ci sta la tribuna quindi non è il massimo comunque 150 è alto ti ho detto è alto sostanzialmente non è basso ma poi il problema è che detto si incastra col derby e se devi scegliere Roma ma il Lazio Roma o Roma Lazio Roma ma qui giochi in casa cazzo vabbè domani e domani come te la vedi quindi domani non scendete in campo fondamentalmente a U no io credo no ma c'è comunque i giocatori giocano io credo che poi alla fine cioè è più una roba di voi tifosi ai giocatori gli interessa più una platea di centro ma io credo che i giocatori quando giocano la Champions League come se un giocatore del campionato italiano di basket ti fa una partita in NBA non è che si metta a pensare no domenica devo affrontare qualcosa via gioca perché comunque la Champions League poi secondo me non si piava manco tanto con quei olandesi quindi magari c'è pure una voglia un po' di rivalza io non ho dubbi sulla prestazione poi il risultato è un altro conto però sei obbligato a vincere giusto? c'è Gianluca Baccano che ha messo un commento un po' polemico no vabbè ma è chiaro che secondo me chi può deve andare domani perché comunque domani è importante è importante per tanti ma domani la Lazio o no per un attimo vediamo se tu passi di sorpassi in classifica se tu passi di sorpassi in classifica sei fuori? beh se perdi si quasi si almeno che l'Atletico Madrid non perde col Celtic però se perdi se pareggi è difficile auguri posso fare una provocazione che non è uno spot sono serio non è meglio per la Lazio non a livello economico perché lo so che andare meglio in Champions uscire e provare a vincere l'Europa League e non andare avanti in Champions che magari fai un turno e vai fuori ma secondo me come è strutturata la squadra non è proprio adatta per quel tipo di competizione è proprio lo scontro diretto di per sé andate e ritorno la Lazio non ce l'ha proprio ma proprio come conformazione della squadra ecco secondo me occhio occhio al taglio no ma non è proprio la conformazione proprio mentre Mourinho si fa la partita tutti dietro la Lazio quella partita là non la si fa e quindi sostanzialmente tu o vinci le partite 3-0 in casa e poi fuori casa la Lazio non vince mai in Europa ragazzi scusate ma devo staccare ciao Vanto ciao Vanto un boccalletto per domani ciao a tutti ciao anche a voi che cazzo negli allenamenti di calcio che sto facendo io a farmi male al massimo vabbè le battute dei fiorentini in conference ciao Vanto buonanotte spammate il canale di Coppobo vabbè andiamo su ma che cazzo ma hai invecchiato male questo qua ragazzi allora sai un po' sai un po' ma anche che non si vede se no vladi vladi ma non è quello della melevisione ragazzi questo qua è anche quella mi chiamo facendo le pubblicità delle tonerie ah esatto quella delle tonerie allora aspe calma indovine il giocatore aspetta indovine il giocatore allora abbiamo questo penso che questo è uno che faceva quello che faceva materatti è caduto mandone aspetta un attimo io la indovino con una vai vai come si chiama quello dei golden steak chi è jedin jedin per la somiglianza quindi eh non lo so vediamo samp no no non ha mai giocato allora quaglia in sampedoria andina andiamo colosseo ah no ma non c'è la soluzione bisogna sicuro non c'è la soluzione eh falcone borselli no questo è falcone falcone il portiere del lecce e che c'è che c'è da questo qua vabbè ragazzi ah perché mi sa mi sa che romanista che romanista falcone e lecce dicono ah il portiere il portiere del lecce no e falcone sai perché era di proprietà della sampedoria è tifoso della roma eh ma questo mi sa che c'è il nome mi sa che si chiama come lui sai vladimiro si chiama questo qua eh anche falcone giusto no non so il cognome si chiama vladimiro eh beh molto difficile comunque sai che mi è venuto in mente che mi piacerebbe fare un gioco di quelli di oggi questo tipo indovina chi è bravo bravo mi è piaciuto con questo gioco qua andiamo bravo 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 indovina una c'è proprio andato vicino bobo o cv talk show eh simpatica simpatica dagli ai ai una vecchia perra del pancio attenzione guarda ma freddi che condizioni non si sente ma fanno stai condividendo l'audio dello schermo incredibile scusami però è bello molto bello aspetta che me la rimetto ho capito te che l'hai sentita stendo l'applauso claudia una ragazza molto piacere anche interessata al cazzo come cazzo si fa a dire queste cose senza farla apposta chi era claudia poi gli estendo l'applauso claudia una ragazza molto piacere anche interessata al cazzo pino cero sirwell non è fatto nessuna smoppia ma un prezzo si è vergognato così in silenzio no ma sai che questo ce la misero dopo ma in diretta non tanto ce la capite che schifo che schifo comunque io ho sempre pensato che qua l'hanno montata con la IA si si io non l'ho detta no no ecco poco perché tanta roba guarda la mia stanza allora vi regalo quest'opera d'arte ma che è fa paura comunque è rizzo è rizzo è rizzo è rizzo è rizzo di essere malato per fare una roba del genere di stralte non è rizzo ragazzi non è rizzo si si tra l'altro postato da Rizzo lo squalo complimenti complimenti Rizzo Rizzo nel ritaglio di tempo fa queste cose un artista complimenti Rizzo artista vero ha festeggiato così i 18 anni ma poi che cazzo significa che è la cosa attenzione attenzione ieri il signor Manfredi mi ha mandato a fanculo in live ti sei meritato un bel video contro beh salve a tutti oggi parleremo di una delle razze più brutte mai viste il pagliaccio milanista ma questa maglietta è il suo luogo dove si esibisce dalle 23 in poi suo cv sport perché gli raggiunge la sua dimensione e diventa il maestro delle cagate pazzesche possiamo vedere Manfredi all'opera con una delle stronzate più colossali del 2023 ma perché c'è Manfredi perché c'è Vitale è il narratore sicuramente io e che Manfredi non andiamo molto d'accordo in prima io dico sempre di Kattenessi quando gli vengono queste stronzate ma lui non capisce un cazzo si adesso basta ultimamente sto perdendo troppo sabbelle sui stronzate che fanno il giro del mondo e la cosa va meglio quando insieme è simpatico a parte l'ultima parte non lo so non mi ha fatto no ma sai perché perché ieri non so in quale occasione più più Rexham mi sa che non so per quale occasione ho detto fanculo Vitale ma era una cosa non so cosa c'entrava Manfredi poi ho una proposta per te ahia assolutamente c'è un mio adepto che si propone come calciatore della fucina adesso adesso lo valutiamo però c'è qui il ritorno del got e quindi ce lo godiamo tutto si 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 numero uno non è colpa di Tassia allora sapete che vi dico a voi vergognatevi vergognatevi vi dovete veramente vergognatevi che voi voi per questo finesse dell'oretti e un'essere come Cassia ma non siete di così del Napoli siete occasionali bravo no è la verità e chi neca è da parte chi neca è da bar questa è la mia regola e quella è e ne vado fiero scusa chi neca è di bari aspetta chi neca è da bar è da bar mi spiace non è così questa è la mia regola e si batte e comunque io sogno io sogno lui che fa alla goth il bordocampista tantissima roba tantissima non è colpa di Tassia finito 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 dicevi monarca no è un nuovo abbonato che è un giovane talento 17enne alla destra alla sinistra ha detto proponimi alla goth io se voi vi passo il contatto tu lo visioni tanto è nell'interlande milanese se vuoi famoso contatto tu lo visioni e proviamo a perché comunque stanno tutti infortunati dobbiamo rifare la squadra a sette giorni dalla goth ma quanti quanti devi fare scusa potrebbero essere uno o due vip scelta il presidente l'ultima che manca dovremmo avercela è uno che ci porta a spolli ma chi sa chi è saltato ragazzi allora cristian aspettiamo giovedì perché si potrebbe essere fatto male cristian sarebbe garella garella e l'altro un altro vip che avevamo preso molto buono si è fatto male anche lui quindi che non l'avevamo ancora annunciato quindi dici non l'hai detto apposta e quindi adesso eh adesso sono i piani b ci sono i piani b rendeteci partecipi che si fa allora un piano e no che poi mi li rubano le altre squadre no c'ho c'ho due piani b che sto trattando dico la verità però lo voglio dire quando sono fai se no me li rubano fanculo non li dico la vedo male ragazzi quello facendo il video tutto ok il video tutto ok ah eh se lo puoi rifare perché quello mi ha chiesto pover nome ragazzi ieri ho fatto una figura di merda con vi raghi dovevo fare un favore ad augusto l'ho chiamato gli ho fatto fare il video il cellulare non non l'ha registrato oggi lo chiamo dico senti fammi il video me lo manda ma ha sbagliato nome sarebbe la terza volta glielo faccio fare no no non farlo a gusto non chiedelo vabbè bambino eh tra l'altro oggi Binaghi è andato a spalare il fango ragazzi a campo bravo bravissimo bravissimo io io no io dico che noi ci presenteremo alla Goat League con grandissime ambizioni qui lo dico e qui lo consiglio grazie Monarche grazie Flavio di essere stati con noi spammati i canali ragazzi please ciao Monarche ciao Flavio buonanotte buonanotte ragazzi ci vediamo domani ciao Augu alle 14.30 a domani per il processo l'unico prossimo ciao grazie a tutti grazie a tutti a tutti